Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono richiesta una maschera per proteggerci dalle schifezze che ci sono nell'aria. Una sorta di maschera purificante per la nostra pelle, per proteggerla dalle contaminazioni, quindi per avere una pelle pulita. Andiamo ad utilizzare due ingredienti naturali che sono fin dall'antichità amati da tutti, e sono l'uovo e l'olio extravergine d'oliva. Prima di iniziare iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato, attiva la campanella per non perderti nessun video, lascia un commentino qui sotto, fammi sapere di cosa hai bisogno. Iniziamo subito, allora ci servirà il bianco dell'uovo. e l'olio extravergine d'oliva. Aggiungo anche un pochino di olio. e vado a rimescolare. Spero anche meno rughe. E l'olio d'oliva è un olio naturale, super super idratante. È il più idratante di tutti, contiene tantissime vitamine e proprietà ottime per la nostra pelle. E ora lo andiamo ad applicare sulla nostra pelle. Lo applico ogni sera, lo lascio agire 5 minuti e poi vado a risciacquare con l'acqua tiepida. E niente, io spero di esserti stata utile. Iscriviti al canale, lasci un commentino qui sotto, fammi sapere come ti sei trovata con questa ricetta qui sotto nei commenti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!